Ciao sono Simone e ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui parleremo della vita e delle opere della grande artista americana Dorothy Lang. Una fotografa di grande importanza conosciuta soprattutto per il suo lavoro documentaristico durante la grande depressione e la seconda guerra mondiale. Il suo approccio umanistico alla fotografia ha catturato l'essenza delle esperienze umane portando alla luce le sfide sociali e le storie emozionanti degli individui. Prima di approfondire la conoscenza di questa grande artista ti ricordo solo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Dorothy Lang nasce il 26 maggio del 1895 in New Jersey da una famiglia di emigrati tedeschi. Non aveva un'infanzia molto facile visto che nel 1902 a soli 7 anni fu colpita dalla poliomelite che le causò un deficit permanente alla gamba destra. Dorothy Lang comunque reagì al suo handicap con estrema determinazione e fin da giovane dimostrò un vivace interesse per l'arte visiva. Studiò infatti fotografie a New York con Clarence White e collaborò con diversi studi. Mentre nel 1918 partì per una spedizione fotografica attraverso il mondo e quando i soldi finire non si fermò San Francisco aprendo un proprio studio personale e diventando parte del migrante della vita della città fino alla sua morte. Nel 1975 è stata assunta da Farm Security Administration per documentare le difficoltà degli agricoltori e dei lavoratori migranti a causa delle tempeste di sabbia che avevano desertificato gran parte del terreno. Durante questo periodo ha scattato alcune delle sue fotografie più iconiche come Meghan Mother che ritrae una madre di famiglia durante la grande depressione. Queste immagini hanno catturato la sofferenza, la forza e la resilienza degli individui colpiti dalla crisi economica. Questo artista non ha semplicemente catturato passivamente le immagini delle persone bisognose ma era profondamente coinvolta nelle loro storie. Le sue fotografie erano strumenti di cambiamento sociale e miravano a sensibilizzare il pubblico e a spingere per riforme politiche. Le sue immagini hanno infatti sicuramente influenzato il modo in cui il governo ha affrontato le questioni della povertà e del lavoro. Durante la seconda guerra mondiale questa artista è stata assunta invece dall'Office of War Information per documentare gli effetti della guerra sulla società americana. Ha catturato così le storie delle donne che hanno contribuito allo sforzo bellico così come i cambiamenti nella vita quotidiana dei cittadini. Dorothy Lang ha ricevuto premi e magnificenze nel corso della sua carriera tra cui la medaglia al oro del congresso nel 1966. Ha continuato a lavorare e insegnare fino alla sua morte nell'ottobre del 1965 sempre a San Francisco. Il lavoro di questa artista ha giottato le basi per la fotografia documentaria come mezzo del racconto delle storie umane. La sua dedizione a catturare la verità e le emozioni della vita quotidiana ha ispirato generazioni di fotografi a seguire le sue orme. La sua abilità nel creare una connessione intima tra il soggetto e lo spettatore continua a influenzare il modo in cui percepiamo e comprendiamo il mondo che ci circonda. Nel corso della sua carriera questa artista ha continuato a catturare le storie degli immigrati e dei rifugiati che arrivavano negli Stati Uniti in cerca di una vita migliore. Le sue immagini infatti riflettano la diversità culturale e la lotta dei nuovi arrivati. Questo artista ha anche viaggiato attraverso l'overstain americano per catturare l'aspetto delle comunità rurali e dei lavoratori agricoli. In questo caso le sue fotografie mostrano le difficoltà e le speranze delle persone durante un periodo di transizione economica e sociale. Qualunque sia il progetto fotografico di quest'artista la cosa certa è che va oltre il semplice registro visivo. Ogni progetto infatti cattura emozioni, storie e sfide umane permettendo allo spettatore di entrare in contatto con le realtà vissute dalle persone durante i periodi critici della storia. Le sue immagini sono un poderoso richiamo all'importanza della giustizia sociale, della comprensione umana e della responsabilità verso gli altri. Lo stile fotografico di quest'artista è stato profondamente influente e distintivo. La caratteristica sicuramente più evidente del suo stile è l'empatia che aveva per i suoi soggetti. Quest'artista infatti riusciva a instaurare un legame con le persone che fotografava mettendoli a loro agio e permettendo loro di mostrare le loro emozioni più autentiche. Questa connessione umana è evidente nelle espressioni e negli sguardi penetranti che riusciva a catturare. Questa fotografa era anche la maestra nel comporre le sue immagini in modo trasmettere messaggi veramente potenti utilizzando spesso una composizione semplice e pulita e concentrandosi sul soggetto principale e su dettagli significativi. Le sue immagini riuscivano così a comunicare spesso il contesto e la storia dei soggetti. La maggior parte delle sue fotografie è stata scattata con luce naturale e questa scelta ha contribuito a creare un'atmosfera autentica e a mettere in risalto le emozioni dei soggetti. Le sue immagini raccontano storie profonde e complesse attraverso una narrazione silenziosa. Le espressioni, i gesti e le posizioni dei soggetti diventano le parole di questa storia. Così facendo le sue immagini trasmettono un senso di verità e autenticità che si può quasi toccare. Adesso prima di concludere ti lascio alcune frasi di questa grande artista. La fotografia cattura un istante fuori dal tempo alterando la vita e tenendola ferma. Usa la macchina fotografica come se dovessi diventare cieco domani. La macchina fotografica è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza la macchina. La vita per le persone comincia a sgrettolarsi e immagini, non se ne rendono conto. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto, nel caso lascia un bel like per supportarmi e non dimenticare di iscriverti al canale. Alla prossima! La 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti